Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Annalisa è stata vittima di un tremendo incidente che le stava costando la vita, per fortuna i soccorsi sono stati immediati Annalisa, la talentuosa artista italiana di origine di Savona, ha recentemente conquistato ancora una volta il cuore del pubblico nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, un vero e proprio festival dei record aggiungendo un altro capitolo di successo alla sua carriera musicale straordinaria Il suo singolo dal titolo Sinceramente si è rivelato un trionfo grazie ad una combinazione musicale tra pop e sensualità che ha catturato l'attenzione di tutti, promettendo di diventare la colonna sonora di quest'estate Il brano di Annalisa, Sinceramente, ha raggiunto addirittura il podio del Festival, posizionandosi al terzo posto, solo dietro a Jolie e Angelina Mango La sua performance stravolgente sul palco dell'Ariston ha fatto ballare e emozionare gli spettatori e ha consolidato ulteriormente la sua reputazione come una delle voci più potenti e apprezzate nel panorama musicale italiano Tuttavia, dietro il bagliore delle luci e il successo che l'artista sta vivendo, si cela una storia di resilienza e sopravvivenza che aggiunge un tocco umano al suo percorso straordinario Annalisa è stata vittima di un incidente terrificante, un episodio che ha messo a rischio la sua stessa vita Le dichiarazioni del padre di Annalisa.Il padre di Annalisa, in un'intervista coraggiosa, ha raccontato il momento spaventoso in cui la figlia è stata coinvolta in un incidente culminato quasi in tragedia Durante una cena, nessun altro si era accorto che Annalisa stava per soffocarsi con un boccone Solo l'uomo, con un istinto rapido, si è reso conto della situazione critica e ha agito prontamente per salvarla L'incidente è stato scongiurato grazie all'intervento tempestivo non solo del padre della cantante ma anche dei soccorsi immediati che hanno evitato una tragedia La vicenda ha letteralmente messo a dura a prova la forte e la determinazione di sua e della sua famiglia, in quanto avrebbe potuto avere dei risolti drammatici e di certo cambiare completamente il destino della cantante di Savona Come dichiarato al giornale di Più dallo stesso padre della ragazza questa orribile storia non è recente ma risale a quando Annalisa aveva 18 anni quindi ben prima della sua partecipazione ad amici Tuttavia, anche se lontana nel tempo questa esperienza aggiunge un nuovo strato di complessità alla vita dell'artista, dando prova che dietro la facciata glamour dell'industria musicale, anche le star affrontano sfide personali e incidenti che possono cambiare la loro vita in un istante La storia di Annalisa è un monito sulla fragilità della vita e sull'importanza di apprezzare ogni momento La sua determinazione a superare gli ostacoli personali e continuare a brillare sul palco scenico è un esempio di grande forza interiore Pronta per dominare le classifiche, tutto ciò è ormai solo un lontano ricordo per la regina del pop italiano Buon appetito!